Ciao a tutti, oggi testiamo il nuovo Spalted Maple U-Bass della Kala Ciò che mi ha colpito di questo strumento è che ha sicuramente delle basse molto profonde ed un suono molto chiaro, con delle note molto ben definite Questo strumento, che è molto intonato, ha sicuramente un gran sustain I bassisti molto solisti si troveranno sicuramente a proprio agio su uno strumento spalla mancante Questo particolare maple, cioè acero, ha la particolarità di avere oltre che due toni di colorazione tanti tratti neri che sembrano disegnati che rendono il legno davvero speciale Tecnicamente lo strumento è composto da top, fasce e fondo in acero spalted con particolari abbellimenti del legno Il manico è in mogano, la tastiera ed il ponticello sono in palissandro Mentre il capotasto e la selletta sono in GravTech Nubon Arriva con delle corde Aquila Thunder Black Questo strumento amplificato ha un equalizzatore attivo con accordatore di proprietà U-Bass Andiamo a sentire come suona Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Questo U-Bass è bellissimo ed è davvero un gran suono Inoltre se siete dei solisti è perfetto per voi Ciao Ciao!